C'erano anche i due consulenti della Commissione Antimafia, Tuccio Papalardo, già quest'ora e poi direttore della DIA, e Bruno Di Marco, ex presidente del Tribunale di Catania, durante la conferenza stampa, nell'ambito della quale il presidente Claudio Fava ha fatto chiarezza sulla relazione elaborata in merito al caso Antoci. Una relazione che aveva scatenato un vespaio di polemiche e la ferma reazione dell'ex presidente del Parco dei Nebbrudi, che aveva usato parole ferme verso le conclusioni cui è raggiunta la Commissione. La Commissione non ha mai affermato che l'ipotesi più plausibile sia quella della messa in scena, sottolinea Fava, ma ha sottolineato che quella dell'attentato mafioso a fine stragista è la meno plausibile alla luce dei dati raccolti. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Fava e di due consulenti hanno sottolineato che si è trattato di un attentato di estrema gravità, che ha avuto un grande risalto anche a livello nazionale. Un attentato certamente anomalo nelle sue modalità, se riportato alla casistica degli attentati mafiosi. Fava ha sottolineato quello che ha definito l'imbarazzo degli ambienti investigativi rispetto alle evidenti contraddizioni nel comportamento di alcuni funzionari di pubblica sicurezza, così come nel fatto che l'autorità giudiziaria non abbia ritenuto di dover approfondire quelle contraddizioni. L'ex presidente Di Marco ha poi elencato quelle che ha definito come anomalie rispetto alla ricostruzione dei fatti, sottolineando in particolare come nessuno abbia preso in considerazione il fatto che l'attentato sia avvenuto su una strada statale, luogo nel quale un attentato necessiterebbe di un blocco in entrambe direzioni, come non siano state allertate immediatamente le centrali operative, o come le armi usate siano palesemente inidonee per la blindatura del lato vettura, e poi l'assenza di un fuoco incrociato contro la vettura, la scelta di un momento ed un luogo poco adatti per il buio e la presenza di assenza di via di fuga per gli attentatori, la mancata attuazione delle regole d'ingaggio previste da parte degli agenti della scorta, e poi ancora il trasferimento di antoci dalla vettura blindata per portarlo su una vettura non blindata, peraltro ferma a decine di metri di distanza, il fatto che gli agenti di scorta siano stati lasciati da soli per oltre mezz'ora senza avvisare a nessuno della loro esposizione al pericolo, il mancato ritrovamento dei bossoli degli attentatori, circostanze per le quali la Commissione ha chiesto alla Magistratura di riconsiderare la riapertura del caso.